Sono state riscontrate come era attendibile delle tracce biologiche, chiaramente allo stato attuale come tali vengono catalogate sono semplicemente delle tracce per scoprire la cui natura sono necessari degli ulteriori accertamenti che non vengono fatti in questa sede. Dove sono state trovate? Sono state trovate all'interno dell'abitacolo, sotto la maniglia interna della macchina. Sono state trovate tracce biologiche sulla megana scenica nera di Federico Ferrini in carcere per l'omicidio di Maria Venazio de Sousa. Questa mattina in questura ad Arezzo la polizia scientifica ha infatti svolto degli accertamenti tecnici irripetibili sull'auto utilizzata la notte del delitto. Non si sa che natura sono e sono di piccole dimensioni quindi è assolutamente fuorviante fare qualsiasi tipo di ipotesi davanti a una macchia del genere. Una cosa è come può risultare alla luce forense o all'ultravioletto, una cosa è quello che appura chiaramente il risultato di un esame preciso biologico sulla traccia che ne appura anche la natura stessa. Potrebbe essere sangue? Potrebbe. Il materiale biologico sarà analizzato nei laboratori fiorentini dell'ospedale di Careggi dove in questi giorni sono iniziati anche gli esami sulle altre tracce biologiche repertate sempre dalla scientifica nell'appartamento di Via della Robbia dove la sessantenne brasiliana riceveva i propri clienti. Materiale che sarà poi comparato anche con il DNA prelevato a Federico Ferrini detenuto nel carcere a Retino di San Benedetto. È stato fatto un tampone orale per il prelievo del DNA. Penso ogni ulteriore considerazione ancora è veramente prematura, aspettiamo un'analisi e vediamo un pochino. E poi chiedere anche un sopralluogo, cosa volete chiedere? Sì, sicuramente chiederemo anche in sopralluogo e sul luogo dove è avvenuto il fatto. Si tratta di accertamenti tecnici che potrebbero dare un riscontro scientifico al racconto fatto dal 37enne casentinese, prima negli uffici della squadra mobile di Arezzo, poi di fronte al GIP Fabio Lombardo. Ferrini ha infatti ammesso di aver ucciso la donna che negli ultimi anni lo avrebbe ricattato. ha confessato di essersi accanito contro di lei con una spranga di ferro che aveva con sé e poi di averle stretto un laccio attorno al collo. Oggi l'ho visto un po' più giù rispetto anche alle altre volte, vediamo, sta chiaramente affrontando problemi, sono tanti, vediamo un pochino. Il punto dell'accaduto? Eh sì, sì, purtroppo sì, si sta accorgendo un po' dei problemi che ci sono.